La giunta regionale ha nominato i nuovi direttori generali delle ASL, sono stati presentati in conferenza stampa dal presidente della regione Puglia, Niki Vendola, e l'assessore alla salute e al welfare, Donato Pentassuglia. I nuovi direttori sono Vito Montanaro dell'ASL di Bari, Ottavio Narracci dell'ASL della BAT, Giuseppe Pasqualone dell'ASL Brindisi, Giovanni Gorgoni dell'ASL Lecce e Stefano Rossi dell'ASL di Taranto. Vendola e Pentassuglia hanno dichiarato una squadra di manager che è una buona promessa e che terrà alta la bandiera della legalità. Sono un grande investimento che facciamo per la buona sanità, chiedere al direttore amministrativo del Policlinico di Bari, che ha svolto in maniera eccellente le proprie funzioni, di andare a svolgere l'incarico di direttore generale nella ASL di Bari, costruendo con il Policlinico un rapporto che finora non c'è stato. Policlinico e ASL devono lavorare in sinergia perché questo consente di ottimizzare le risorse, di evitare gli sprechi, le duplicazioni. E questa è la prima scelta. Il dottor Vito Montanaro è la scelta di un giovane bravissimo manager in una delle ASL più grandi d'Italia. La scelta del dottor Giovanni Gorgoni per la ASL grande di Lecce è la scelta di chi ha diretto molto bene, con delle performance universalmente riconosciute come ottime nella ASL della BAT. Quindi ha fatto una buona esperienza e il più giovane, poco più che quarantenne, il più giovane dei nostri manager va a vivere la sfida nella grande ASL di Lecce. Il dottor Stefano Rossi, che è stato direttore amministrativo dell'ASL di Brindisi, in quella ASL insieme al direttore generale Paola Cianammeo, ha svolto un'opera straordinaria di moralizzazione dell'ASL, di lotta contro i comitati d'affari, di lotta per blindare quella ASL da dinamiche di inappropriatezza o a volte di aggressione criminale, va a svolgere il compito fondamentale di direttore generale dell'ASL di Taranto, che è una ASL che ha delle sfide molto importanti, a cominciare dalla costruzione del grande ospedale, per cui noi abbiamo già stanziato 200 milioni di euro. Il direttore Narracci è stato direttore amministrativo dell'ASL di Lecce, un dirigente che ha garantito equilibrio, attenzione, capacità amministrativa, capacità manageriale, va a dirigere la ASL BAT e l'attuale amministratore unico della società in house, Sanità Service della BAT, che ha fatto veramente un'esperienza importante, che si è dimostrato un manager autonomo e capace, va a dirigere l'ASL di Brindisi. A questi manager il Presidente della Regione ha raccomandato di tenere alta la bandiera della legalità, del rispetto delle leggi, che significa impermeabilizzare ogni azienda sanitaria locale dall'aggressione dell'impresa cattiva, della politica cattiva, di tutti coloro che vogliono mettere il naso in faccende di cui non dovrebbero occuparsi. L'ASL deve essere il luogo in cui si costruisce la buona sanità, l'organizzazione delle risposte ai diritti dei cittadini, soprattutto quando sono ammalati, l'umanizzazione dei percorsi di cura è l'obiettivo più importante. E io sono fiducioso che queste scelte possano essere veramente anche un punto di rafforzamento e di ulteriore cambiamento della sanità pugliese. Le ho fatte con il cuore di chi fra qualche mese abbandonerà il proprio incarico di Presidente di Regione, l'ho fatto pensando ai pugliesi, al futuro della nostra sanità. E spero di aver fatto le scelte giuste. Un confronto molto interessante e vivace questo tra studenti e imprese. Più un confronto è un inizio di sinergie, cioè di mettersi insieme per dare anche una soluzione, una risposta a tutte quelle domande che oggi gli studenti si fanno, partendo dall'orientamento, partendo dal futuro, le possibilità che la scuola può dare, ma come anche la scuola le imprese possono dare a loro. E quindi io penso che oggi i ragazzi sicuramente hanno avuto un arricchimento e soprattutto un incoraggiamento che oggi hanno bisogno, visto il momento di crisi che stiamo affrontando, e questo punto interrogativo che si portano dietro. Un incoraggiamento ma soprattutto anche una prospettiva? Beh, la prospettiva prima di tutto è dovuta anche su un orientamento ben specifico, che parte dalle richieste che vengono dal nostro territorio, cioè perché non si può immaginare che una scuola che prepara delle figure che poi al nostro territorio non servono, e poi questi ragazzi sono costretti a spostarsi, a andare al nord, ma perché magari non hanno le basi e le caratteristiche richieste che il nostro tessuto economico richiede. Un bilancio necessario di questa giornata interessante di confronto tra impresa e lavoro? Beh, è stato sicuramente interessante in quanto la partecipazione da parte dei ragazzi è stata profonda, motivata e soprattutto hanno colto gli aspetti che li riguardano per quello che attiene le possibilità e le prospettive per il loro futuro. Un ringraziamento al Consorzio perché sul territorio ha avviato questo rapporto con il mondo della scuola, ascoltando il mondo della scuola, facendo proprie quelle che sono anche le esigenze e di conseguenza anche rispondendo con questa iniziativa, che sicuramente le prospettive per il futuro sono molto molto interessanti. Noi speriamo in un prosieguo, abbiamo accolto in maniera entusiasmante la proposta che ci è pervenuta dal mondo imprenditoriale di Francavilla perché è di fondamentale importanza che gli studenti incontrino l'impresa e siano attivi all'interno dell'impresa oltre che all'interno della scuola. Si pensa che la scuola dia solo teoria, invece attraverso l'alternanza scuola e lavoro, gli stage aziendali, i corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e informatiche, la scuola cerca di essere al passo con i tempi e pertanto benvengano iniziative come quella proposta dal Consorzio delle imprese riunite di Francavilla. Luci e magia per questo Natale, si fanno sempre più intensi gli appuntamenti nel territorio brindisino. Nel giorno di Natale, nel cuore del quartiere Bozzano di Brindisi, il presepe vivente continua in piazza Cairoli a Brindisi, sino al 6 gennaio, il villaggio di Babbo Natale 2014 con animazione, gioco party, baby dance, natalizia, laboratori didattici. Prosegue anche la mostra di Giuseppe e Luigi Delia, opere recenti nell'ex convento Scuole Pie fino al 7 gennaio, invece le sale espositive di Palazzo Nervegna ospiteranno la 29esima rassegna del presepe dell'arte nella tradizione promossa dall'UNESCO di Brindisi dal titolo E si misero in viaggio popoli viandanti e migranti, orari 9.30, 12.30 e 16.30, 20.30. Anche il Natale ostunese è ricco di appuntamenti. La città bianca il 25 dicembre apre le porte delle chiese di San Giacomo di Compostella, San Giuseppe, Spirito Santo, con visite e concerti alle 20, Natale in Gospel in Piazza della Libertà. Chi si aperte anche il 26 è viaggio d'amore seguendo La Stella in Piazzetta Cattedrale. Il 26, 27 e 28 presepe vivente nel centro storico a cura dell'associazione Pannone Folk e del gruppo Folk La Stella. San Silvestro in Piazza della Libertà a partire da mezzanotte con il gruppo Grove and Soul with Giorgia Cardone il 3 gennaio alle 19, concerto di Natale nella chiesa San Francesco e il concerto per la pace con i Wake Up Gospel Project nella chiesa San Maria della Stella. Il 5 gennaio alle 17, viva la Befano ostunese e la sesta edizione si terrà nell'area mercatale a partire dalle 17 e il 6 si ripetono gli appuntamenti nel centro storico con i presepi viventi. A Mesagne domenica 28 dicembre è il turno di uno degli appuntamenti clou del programma Tesoro Salento dalla città messapica al castello Normanno Svevo. La visita guidata gratuita che avrà inizio alle 16 concentrerà in un'unica passeggiata la storia millenaria di Mesagne. L'appuntamento è inserito nel programma regionale Discovery in Puglia con visita alla necropoli messapica e agli ambienti in genere chiusi del castello, tra le prigioni, il pergolato, il terrazzo e il loggiato. Il 4 gennaio alle 17 sarà poi il turno dell'iniziativa ai Messapi. Il 26 dicembre a Francavilla Fontana, 21esima edizione del presepe vivente organizzato dalla parrocchia San Lorenzo Martire. Musica classica, rock'n'roll e tradizioni. A Francavilla è Natale non solo grazie alle luminarie che illuminano a giorno il centro storico ma anche grazie a un cartellone di eventi che vuole soddisfare un po' tutti i gusti e un po' tutti i palati. Eventi in realtà già in parte apprezzati negli scorsi giorni ma che ora, complici il calendario, entrano davvero nel vivo. E così, oltre ad una mostra di presepi a Castello Imperiale organizzata dal Club Unesco e ad una mostra fotografica intitolata La percezione del Natale curata da Ardeco e già installata in via San Salvatore. Nello stesso giorno, le 19.30, i mandolini dell'Hathor Plektrum Quartet risuoneranno lungo il viale Vincenzo Lilla già preso d'assalto dai cittadini, turisti e operatori commerciali degli stand partecipanti alla fiera di Natale. Venerdì 26, tombolata di Santo Stefano presso la parrocchia del Carmine quindi gran concerto in piazza Giovanni XXIII con la Controrchestra Big Hand. Sabato 27, arti e tradizioni in armonie, alle 19 presso la chiesa di San Salvatore mentre gli amanti del British Pop si ritroveranno di nuovo in piazza Umberto I dove alle 22 sono attesi Sunshine, cover band degli Oasis di scena al caffè centrale. Domenica 28, concerto di musica classica natalizia presso la chiesa di San Sebastiano mentre per le vie del centro arriva l'allegria del Salento Funk Orchestra. Lunedì 29, grande musica gospel in piazzetta San Marco con la Filarmonia Orchestra mentre martedì 30, Domenico e gli altri emigrati saranno i protagonisti di un'opera teatrale presso la Sala del Lampadario a Castello Imperiale. Tristi eventi nelle domeniche successive, il 4 gennaio, concerto del coro polifonico di Alma Gaudia presso la chiesa dei Sette Dolori. Quindi il giorno dell'Epifania, la fantastica storia, nella chiesa di San Salvatore anticipa la chiusura finale con Texto Andaluso, ultimo evento previsto per l'11 gennaio presso la Sala del Lampadario. Insomma, è Natale anche a Francavilla. In questi giorni tornata appetibile anche per tanti forestieri. Inaugurato il 23 dicembre scorso il presepe allestito dal Comitato della Stella sulla Grotta naturale in questi giorni è pronto ad accogliere pellegrinaggi e visitatori richiamando da lontano Grazia le numerose lampadine posizionate su un monte rivolto al laureto di Fasano. La scena della natività è realizzata in fondo al tratto visitabile in un antro nel quale sono posizionati personaggi, statue di grandi dimensioni. Nella grotta poi vi sono attrezzi e utensili della civiltà contadina del secolo scorso che creano un ambiente suggestivo e particolare che ricorda quella della classica iconografia della natività di Bethlehem. Dopo l'inaugurazione il presepe apre al pubblico nei giorni 25, 26, 27 e 28 dicembre, 1, 2, 3 e 4 e 6 gennaio dalle 17 e 30 alle 21 e 30. Il 28 dicembre pellegrinaggio con i fedeli della parrocchia di San Francesco d'Assisi di Fasano alle 20 guidati dal parroco Don Carlo Latorre. Lo stesso faranno una quarantina di giovani del movimento eguaristico giovanile di Fasano che si recheranno alla grotta sabato 3 gennaio partendo alle 14 e 30 dall'oratorio del fanciullo. Ancora per qualche giorno è possibile iscrivere la propria realizzazione al concorso presepi giunto quest'anno alla 25esima edizione. Nel territorio fasanese un altro storico appuntamento è rappresentato dal presepe vivente di Pezzeri Greco che si tiene nella lama del trappeto, tra grotte naturali, antichi mestieri, cucina tipica, canti e bali della tradizione contadina a cavallo tra la fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Organizzato dall'Associazione Presepe Vivente di Pezzeri Greco, il parco rupestre è visitabile nei giorni 26, 27 e 28 dicembre e 1, 4 e 6 gennaio dalle 16 alle 21. Nel centro antico di Fasano invece si terrà la quinta edizione del presepe vivente dell'Anspi Teatro, tema di quest'anno perché la vostra gioia sia piena. Appuntamento le sere del 26, 27 e 28 dicembre dalle 20 e 30. In questo numero del Salus Tg, il monito e i rischi per chi sfreccia sugli sci. Tutti contro l'Ebola, un'app fonde la potenza dei computer privati per trovare una cura. Con 200 grammi al giorno di frutta e verdura in più risparmi per 1,5 miliardi l'anno. L'esperto attenzione ai viaggi esotici last minute se rischia la salute. Se sciare non nasconde grossi pericoli per la salute, purché venga fatto con la dovuta accortezza e preparazione fisica, moderando la velocità e indossando quantomeno il caschetto, il discorso cambia se si scia a velocità elevata. Le parti del corpo più a rischio dei traumi sono gli arti inferiori e il cranio. Oggi la tecnologia degli attacchi e l'uso di sci più corti e più larghi ha ridotto il rischio di non sgancio dell'attacco o di leve eccessive da parte dello sci. Per cui, ancora le vediamo, ma sono un pochino meno frequenti le fratture di gamba e prevalgono un pochino di più invece le distorsioni del ginocchio. Per quanto riguarda invece il cranio, il caschetto protettivo è fondamentale. Da quando è obbligatorio nei bambini l'uso del casco protettivo, sono pressoché scomparsi i traumi cranici. E non vi è stato neanche un aumento delle distorsioni del rachide cervicale, perché in realtà la parte più preoccupante quando si cade in velocità sullo sci è l'impatto sull'encefalo. Quindi bisogna utilizzare il casco, avere competenza tecnica, cioè avere padronanza dello sci in funzione della pista che si affronta. Non si può pensare di essere un neofita e gettarsi su una pista nera, casomai in un giorno in cui la neve è ghiacciata. Combattere l'ebola durante la pausa a caffè, senza essere ricercatori, scienziati o donatori. Semplicemente scaricando un'applicazione che metterà a disposizione, nei momenti di inattività del proprio computer, la potenza di calcolo del processore. Il dispositivo, collegati con gli altri via cloud, lavorerà in tutta sicurezza senza interferire con le normali attività, aiutando il centro di ricerca statunitense Scripps Research Institute a vagliare milioni di composti chimici per individuare suggerimenti per nuovi farmaci per il trattamento di ebola. Sempre meno frutta e verdura sulle tavole del bel paese. Ogni italiano ne mangia in media 303 grammi al giorno, contro i 361 grammi del 2000. Senza questo calo, le casse della sanità avrebbero risparmiato 3,4 miliardi di euro e si sarebbero potute prevenire 52 mila morti per malattie cardiovascolari. Invertendo il trend e tornando ai consumi di 15 anni fa, il risparmio nei prossimi otto anni sarebbe di 3,3 miliardi. E superando la soglia dei 500 grammi al di, come prescritto dagli esperti per mantenersi in salute, nello stesso periodo il risparmio sarebbe di 8,9 miliardi. In altre parole, se ogni italiano mettesse nel piatto 200 grammi in più di ortofrutta al giorno, la spesa sanitaria potrebbe essere ridotta di almeno 1,5 miliardi di euro all'anno e si salverebbero decine di migliaia di italiani. A fare i calcoli è Agroter, che durante un incontro a Milano invita a fare il pieno di frutta e verdura per vivere meglio e più a lungo. La crisi non ha posto fine alla scelta di una meta esotica per le feste di fine anno. E nonostante le molte raccomandazioni, ancora in molti, sottovalutano le insidie per la salute, magari optando per soluzioni last minute senza preoccuparsi della prevenzione. Lo dice Walter Pasini, presidente della Società Italiana di Medicina del Turismo, che sottolinea come al di là del pericolo ebola, di cui naturalmente oggi si tiene conto, i viaggiatori esotici ancora tendono a sottovalutare pericoli come la malaria, ma anche le infezioni sessualmente trasmesse, l'HIV e patologie di origine alimentare, come la maledizione di Montezuma. La malaria, spiega all'esperto, è una malattia endemica in molte parti del mondo, che può rivelarsi mortale. Il problema è che spesso prima di partire non si fa la profilassi o non la si completa una volta tornati. Ecco perché una febbre al ritorno da un viaggio esotico deve subito allarmare. Chi sta progettando trasferte in mete a rischio da un punto di vista igienico dovrebbe mettere in valigia anche farmaci antidiarrea, problema che può essere davvero debilitante. Fra le insidie per i viaggiatori che si recano in Medio Oriente c'è il coronavirus della MERS, mentre in Sud America, ricordiamo, Chagas e in molte aree la filariosi, che può manifestarsi mesi dopo il rientro. L'antidoto a incidenti che rischiano di rovinare una vacanza passa, secondo Pasini, attraverso la prevenzione. Sul sito www.travelmedicine.it sono elencate, dalla A alla Z, tutte le insidie meta per meta. Grazie a tutti! Grazie a tutti!